Pesce, attività fiorente lungo la costa e la pesca grazie alla generosità dell'Adriatico, sogliele, spigole, dentici, rombi e code di rospo per il forno o il cartoccio, pesce di paranza per fritture e brodetti, triglie per il tegame, pesce azzurro per la griglia, vongole e cozze, i cosiddetti moscioli del conero, crostacei e molluschi. La provincia di Ancona ha fortemente voluto e sostenuto, anche finanziariamente, il progetto di certificazione di qualità delle produzioni ittiche locali e certificazione ambientale del pescato, volto alla certificazione dei processi produttivi di altissima qualità da parte dei pescatori aderenti al Consorzio Pesca di Ancona, nel massimo rispetto dell'ambiente e delle risorse, in un sistema integrato di gestione della qualità e dell'ambiente, nonché finalizzato alla garanzia alimentare del prodotto ittico, legando maggiormente il mercato locale alla grande distribuzione, oggi particolarmente attenta al discorso di qualità globale del prodotto ittico. Piatti tipici della zona sono assici con peperoni dolci, il brodetto, il baccalà e calamaretti a lanconetana, calamari ripieni, ecc.